Primo piano, sport. La Red Bull davanti a tutti è stato Sebastian Vettel a fermare il cronometro sul giro più veloce delle qualificazioni per il primo Gran Premio della stagione 2010 di Formula 1. Il pilota tedesco dunque partirà in pole position in Bahrain. Dietro di lui ci sono le due Ferrari, con Felipe Massa in prima fila e Fernando Alonso subito dietro. È bellissimo tornare a correre ed è ancora più bello farlo a questi livelli, ha commentato il brasiliano, a rientro in gara dopo il traimento incidente della scorsa stagione. Il secondo posto e il terzo di Alonso sono frutto di un ottimo lavoro di tutta la squadra, ha spiegato Massa, mettendo in guardia i tifosi in vista della gara. La Red Bull è molto forte e sarà difficile stare davanti, noi ci proveremo. Soddisfatto anche Alonso al debutto sulla monoposto di Maranello. In qualifica si sono registrati gli stacchi maggiori rispetto alle prove libere, ha sottolineato lo spagnolo. Ma va bene così, la corsa vera sarà solo domani e il verdetto rodrà la pista. Quarto tempo per la McLaren di Lewis Hamilton e quinto per la prima Mercedes, quella di Nico Rosberg, più veloce dell'attesissimo compagno di squadra Michael Schumacher. Per il sette volte è ridato un rientro tutto sommato discreto, visto che si è messo dietro Jenson Button, campione del mondo in carica, ottavo.